E' stata siglata ieri a Palazzo Iacono la Convenzione tra Scuole Cittadine e Comune in materia di alternanza scuola-lavoro. Quella di ieri riguarda la Convenzione per la gestione del Museo Italo-Ungherese ubicato all'interno dell'ex campo di concentramento. Gli studenti dovranno in pratica prendere confidenza con la struttura in questione e capire come si organizza e si gestisce un museo e ad essere coinvolte saranno diverse classi, ognuno con un contributo diverso. Si tratta di un percorso che è inserito all'interno dell'alternanza scuola-lavoro. I primi contatti sono stati presi con l'assessore alla cultura Gianluco Chipinti che ha creduto moltissimo in questa nostra proposta e in questa nostra iniziativa. Che cosa faremmo noi in questo posto? Intanto i ragazzi cominceranno a prendere confidenza con un museo, come si organizza un museo, come si gestisce un museo, come si può arrivare all'apertura di un museo da offrire non solo alla collettività ma anche ai potenziali turisti che vissano nel territorio. In ogni caso, essendo un posto che rappresenta in sé la cultura, ha una ricaduta anche a livello didattico perché i ragazzi potranno approfondire aspetti relativi alla Prima Guerra Mondiale e quindi toccare con mano che cosa è stata la condizione dei prigionieri. E tutto questo coinvolge diverse classi e ogni singola classe diciamo che verrà chiamata a portare un contributo diverso. Chi si occuperà della parte più organizzativa, chi si occuperà degli aspetti culturali per quanto riguarda le fonti e così via.